Ciao a tutti gente, mezz'ora fa è uscito il secondo trailer di Infinity War, ho ricevuto vari messaggi che mi hanno detto che il trailer è una figata, è pazzesco, quindi niente, provo a farci una reaction, vediamo come viene. Da quando lo conosco, ha sempre avuto un obiettivo. C'è War Machine? Lo farà schioccando le dita, proprio così. Che figata. Dio. Iron Man e Nebula, bene bene. Ah Spider-Man andrà a vedere lì il suo portale. Che figata, cazzo. Parliamo del tuo piano, non è male, a parte che fa schifo, al piano ci penserò io e in questo modo diventerò... È bellissimo, è bellissimo, c'è poco da dire. La fine è vicina. Ah, Groot è un po' grandicello, sì. E allora... Metà dell'umanità continuerà ad esistere. Che figata. Perfettamente bilanciato. Scudo alla Star Wars. Come tutto dovrebbe essere. Si ricorderanno di voi. E che cazzo. No, è una figata. Devo dire che questo trailer è nettamente migliore del primo. Cioè, ero già parecchio hypato per il secondo, visto che ho ricevuto questi messaggi. Però non mi aspettavo una cosa veramente così epica. Cazzo, non vedo l'ora. Veramente non vedo l'ora. Devo rivederlo come sempre perché mi sarò perso mille cose. Ok, qui c'è New York che cade un meteorite. Qui c'è Nebula che parla con Iron Man. Ok. No, ma è una figata pazzesca. Poi Thanos con l'armatura è tutto. È ancora più spaventoso, più enorme, più... Abbiamo un vantaggio. Lui verrà da noi. Abbiamo quello che Thanos vuole. Perciò lo useremo. Parliamo del tuo piano. Non è male. A parte che fa schifo. Al piano ci penserò io. E in questo modo diventerà... Wow. Il doppiaggio in italiano di Thanos devo dire che non è niente male. Alla fine ha il suo effetto, cazzo. E allora... Metà dell'umanità continuerà ad esistere. Le scene in Wakanda ci saranno una cosa fuori di testa, incredibili. Come tutto dovrebbe essere. A Strange succedono cose fuori. Si ricorderanno di voi. Questa scena che tiene Thanos lo ferma col guanto è una figata pazzesca. Cioè è una figata... Mi spiace l'ho detto mille volte ma c'è poco da... C'è poco da dire e fare. Questo trailer è una figata pazzesca. Come nella scena finale si vede un po' meglio... Diciamo il costume di Spider-Man è molto più corazzato rispetto a quello che aveva nel primo film. Quindi che dire gente, il trailer è stato una figata pazzesca. C'è poco da dire. Non mi aspettavo veramente che raggiungesse questi livelli. Ha nettamente superato il primo. Il primo diciamo ci ha sorpresi, sì. Però non ha dato il meglio. E in questo trailer è stato proprio il massimo. Penso che meglio di così non si poteva assolutamente fare. Non ci resta che aspettare il 25 aprile. Io credo verso inizio aprile inizierò una serie di video in preparazione a questo film. Vi aggiornerò magari prossimamente. Io vi saluto. Vi invito a iscrivervi al canale per continuare a seguirmi e per prepararvi a Infinity War con me. Io vi saluto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.